Ciao a tutti i pubblici di YouTube, Fuzgaro88, Fignatata6, Banco Matti. Allora oggi vi portiamo una chicca su Amazon. Allora questa chicca si chiama Amazon Pantry. Allora spiegaci un attimo questo Amazon Pantry. Loro ti danno la possibilità di riempire una scatola mentre tu la completi e ti vengono le per cento di scarnello in alto, stai introducendo questa nuova modalità di spesa e la stanno a promuovere. Perfetto. Arriva il Banco Matti. Ok. Allora, io direi una cosa, facciamo vedere dove dovrebbe essere una scatola. Abbiamo casteso, abbiamo casteso e via. Ecco qui. Questa è un esempio della scatola che vi arriva? Fatta, che cosa? Composta da varie cose e vieni, si avrà speso un patrimonio questa perché mi hanno usato le nostre cose. Si, esatto. Esatto. Sto bene perché quelle robe lì... Esatto. Vai. Poi dopo comunque è roba tutta di marca, quindi ci teniamo a sottolineare questa cosa, nel senso che non sono robe buttate così a casa. Allora noi... C'è che magari te ti avrete fatto dei problemi a comprare, magari il giorno dopo ti vengono a due settimane dopo. Eh, esatto, esatto, esatto. Comunque robe di marca, comunque prodotti molto mirati. Noi abbiamo cercato, e poi vi porteremo anche sul nostro, nella nostra pagina Facebook, su tutti i nostri... Segnalata già, la promozione l'abbiamo segnalata. Esatto. Allora, chi ci segue via Facebook vende tutto subito. Esatto. Poi, se abbiamo la possibilità, segnaliamo il video o comunque qualcosa di speciale, beta al video e facciamo solo video. Perfetto, esatto. Noi abbiamo fatto questa promo per quanto riguarda prodotti per la casa. Si. Allora, tu avrai già fatto vedere su Facebook tutto. C'è già tutto, già consigliato. Per ricapitolare un attimo video, la tua spesa, cosa è stato fatto, come è stato fatto, quanto è stato speso e con che modalità, ci portiamo appunto questo... Il colpaccio. Esatto, questo colpo fatto. Vado a prendere subito l'ordine per vedere una cosa veritiera. Esatto, esatto. Allora, ragazzi. Per portare anche magari euro, quote. Si, 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 si. Che cosa effettivamente poi alla fine è stato pagato. Ci siamo. Praticamente funziona così. Per promuovere il Patrick ci hanno regalato una grande promozione. Esatto. Inserendo dei prodotti della linea detergenza abbiamo la possibilità di non pagare la spesa. Perfetto. Si precisa una cosa. Non potrete mai, con questo colpo che vi siete pagati, non potrete mai pagare meno 4 euro. 3,99 euro. 3,99 euro. Se quelli dovete tirare fuori per forza, quindi mettete il preventivo che poi lo date a forza. Perfetto. Stai la mia macchina e si parte. Allora, bisogna inserire 5 prodotti della linea detergenza che ti consigliamo. Perfetto. Noi abbiamo messo nella nostra scatolina 5 navi sanspray genizzate da conto di 2,26 euro. Perfetto. Stai la mia macchina. Non paghiamo spedizione. E qua abbiamo messo questo prodotto. Primo bonus. Stai la mia macchina. La mia macchina di detergenza si sale a 12 euro di sconto. Perfetto. Stai la mia macchina. Stai la mia macchina. Stai la mia macchina. Stai la mia macchina. Se non l'ho capito male. Vai, vai, vai. Consiste in un box del peso totale di 20 kg. Perfetto. Non si può andare oltre se non si va nella seconda scatola o si spezzano le spese. Esatto. Quindi non è una questione di spazio di centimetri, è una questione di peso. Si, si. Quello che ci sta. Esatto. Esatto, esatto. Non si può regalare il compromesso. Esatto. A un massimo di 20 kg. Quindi, secondo me dopo questa cosa, quelle immagini che abbiamo fatto vedere. No, no. L'immagine che abbiamo fatto vedere. Spiega tutto. È infinitissimo. Ci sono anche i fazzoletti a 80 centesimi, i biscotti a 1,18 euro, le gocciole. E comunque c'è roba così, no? Alla fine voi non dovete calcolare il prezzo che vedete. Perché i 12 euro di risparmio sono calcolati come risparmio, non li vedete. Esatto. Tutto quello che confererete lì è strascontato. Esatto, esatto, esatto. Alla grandissima. Quindi io direi che con questa promno ci siamo. Ci siamo, raga, no. Stiamo salendo sempre di più. Sì, sì, sì. È per le scelte, è per le scelte. Sì, sì, sì. Quindi un saluto dai Bancomati. Un che rispetto ai Bancomati. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. In descrizione. Commentate. Codici ci saranno tutti. Riscritti proprio nella maniera in cui dovrete proprio inserirli. E... Fate girare il video così risparmiano anche gli altri. Commentate. e dàtornando anche voi. Come siamo facendo voi. Bye. Ciao, 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 ciao.